Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite finalmente con questa nuova stagione 6. Vi ringrazio ancora per la live di ieri, abbiamo fatto una live di 9 ore, di fatti questo qui è il mio primo video di questa nuova stagione 6 di Fortnite. E quale può essere il primo video se non un video in cui andiamo a parlare delle nuove armi mitiche, dei nuovi boss, dove trovarli e come sbloccare le loro armi? Direi che ci sta tantissimo. Come al solito vi ricordo anche di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite, grazie davvero di cuore a chi lo inserirà. Mi raccomando controllate in basso a destra e ci sia scritto supporto a un creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato, perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie davvero di cuore per tutto il supporto. Vi ringrazio ancora anche per i 400.000 iscritti che abbiamo raggiunto direttamente ieri in live, ma i 500.000 iscritti non è che si raggiungono proprio così con uno schiocchio di dita. Quindi mi raccomando ragazzuoli, controllate di essere iscritti, se non lo siete iscrivetevi. Lasciate anche un bel mi piace per supportare tutti questi nuovi video della stagione 6, anche perché ne vedrete delle belle sia di live che video, quindi insomma ragazzuoli supportate con un bel mi piace. Detto questo andiamo a vedere queste nuove armi mitiche, dove trovarle e soprattutto come combattere i nuovi boss. Allora ragazzi, se ci volete capire qualcosa sui nuovi boss e sulle nuove armi mitiche, sedetevi un attimo e cercate di concentrarvi e ascoltate bene. Perché non è così complicato alla fine della fiera, cioè se ci fate un attimino l'abitudine, state attenti, capite. Però essendo un qualcosa di completamente nuovo, potrebbe non essere compreso alla prima volta. Allora, praticamente noi abbiamo un boss principale alla guglia, che è sostanzialmente l'assassina della guglia, che è praticamente la skin del livello 100 del nuovo pass battaglia. Che si trova qui ragazzi? E ha il suo bel pompa mitico, tra l'altro ti spara anche con uno scar se gli girano, eh. Sì, sì, c'ha uno scar e il pompa mitico. E voi direte, vabbè Gigi, tutto nella norma, il pompa mitico, la uccidi, ti lascia il pompa mitico e finisce lì. Sì, ok, fino a qui ci siamo, va bene, sono d'accordo con voi. Ma in realtà non è proprio così. Perché praticamente c'è un'altra arma mitica, che è sostanzialmente l'arma mitica segreta di questa sesta stagione di Fortnite. Praticamente, ragazzi, ci sono gli stivaletti mitici, che sono un po' particolari da ottenere, diciamo così, oggi vi svelerò il trucchetto. Allora, praticamente questa assassina della guglia, ora mi metto un attino qui e ve lo spiego meglio, praticamente ha sei copie, da quanto ho capito. Una per ogni torre di queste che sono estese per tutta la mappa. Ce n'è una qui, per esempio, ce n'è un'altra qui a foresta, ce n'è una qui verso sabbie, ce n'è una qui, diciamo, tra parco e scogliere, ce n'è una qui quasi a foschi fumaioli e ce n'è una qui a corso commercio. Tutte queste torri, da quanto ho capito, hanno una copia dell'assassina della guglia. E che cosa danno queste assassine copie della guglia? Un pompa epico. E quindi fino a qui voi direte, vabbè Gigi, ok, danno il pompa epico, buono, ci sta. E no, regà, perché insieme al pompa epico vi danno una sfera strana, di cui non mi ricordo neanche il nome. Questa sfera strana serve per sbloccare gli stivaletti mitici. Ed è qui che arriva la cosa complicata. Ora, guardate bene quanto sono lontani tutte le torri dalla guglia. Cioè, ne passa di acqua sotto i ponti prima di arrivare alla guglia. Cioè, dovete attraversare città, fiumi, zone aperte. Cioè, dovete attraversare un po' di tutto per arrivare, appunto, alla guglia. Perché praticamente quella sfera che troverete uccidendo le altre copie dell'assassina, la dovete poi consegnare proprio qui alla guglia. E vi faccio vedere anche il punto esatto. O meglio, il punto dove l'ho fatto io la prima volta. Poi non so se ci sono anche altri punti. Qui, regà, proprio qui. Vicino a dove sto per uccidere adesso la guglia vera. Quella vera, quella real, non quella fake. Ok. L'ho lisciata, regà, ma è trollissima. Regà, sto... Sto boss è veramente, veramente troll. Non c'è... Non c'è stato mai un troll così grande, secondo me. Poi non lo so. Ecco, per esempio, passa... Vedete? Io ero full. Lei ha trapassato il muro e con lo scar mi ha laserato. Ok, tralasciando appunto il boss troll, forse è stato pure meglio morire, così almeno andiamo in una di queste altre zone delle torri. Perché così vi faccio vedere proprio per bene questa sfera e poi come funziona. Ah, come vi ho detto, praticamente ad ognuna di queste torri c'è un boss che è praticamente la copia di questa assassina della guglia. Tra parentesi, c'è anche tipo il rapace, se non sbaglio, su quell'isola là, che è un altro boss che vi puscia, insomma. Vi puscia, quindi state attenti. Diciamo che è un po' una stagione come quella scorsa. Ci sono un po' di NPC, un po' di meno forse rispetto alla stagione scorsa. O comunque alcuni devono ancora essere aggiunti, non lo so, però mi è sembrato di trovarne meno. E poi ci sono un po' di boss, un po' di gente che ti puscia così un po' a random. Soprattutto queste copie, perché tutte le copie non sono NPC, ti pusciano. Ecco qua, ce n'è un'altra qui giù. Queste qui però dovrebbero, dovrebbero essere un po' più scarse. Dovrebbero avere anche meno vita, forse no? Vabbè, la vita forse è sempre quella. La vita dovrebbe essere sempre quella, però hanno sostanzialmente... Meno danno, forse fanno meno danno. Ok, comunque, allora regà, ecco il pompa epico, perché comunque vi lasciano il pompa epico. Ed eccola qui, raga, raccogli, ok? Non lo so come si chiama in realtà, ragazzi. Non so se ha un nome... Ha tipo runa si chiamava, se non sbaglio. E... Aspettate un attimo, ragazzi. Non dà un pompa, dà il fucile a salto viola. Oh, io ancora mi devo abituare che questo è un pompa. Comunque, regà, questa qui dovrebbe essere tipo una runa, una runa primordiale. Comunque, c'ha un nome con runa, qualcosa del genere. E praticamente te lo devi portare così. Cioè, lo potete lanciare, potete fare un po' di cose. Poi rotola, quindi magari se lo mettete su una montagna, questo rotola. Poi, come vedete, comunque è andata abbastanza veloce. E con il flusso, ragazzi, vedete che prende la roccia e emana un flusso? Praticamente vi dice, vi guida al punto in cui la dovete consegnare per sbloccare questi maledettissimi stivaletti mitici. Allora, come vi ho detto, è molto lontano. Cioè, tutti i punti sono molto lontani, quindi sti stivaletti, che poi alla fine della fiera io li ho provati, non sono così forti. Nel senso, potete scappare e volare come quando volete. Ma se trovate quello bravo, prima cosa non vi fa scappare. Seconda cosa, anche se scappate, ve pia in volo. Quindi diciamo che alla fine della fiera, sì, vi può tornare utile, ma ribadisco fino a un certo punto. Detto questo, che ribadisco, non ci sono i pompa epici, ma sono assalti epici le copie, dovrebbero avere quello. O non so se ogni tanto vi spona il pompa, ogni tanto l'assalto, dunque hanno queste armi. Mi rilascia questa roba. E poi con questa roba dovete andarvi a fare, appunto, gli stivaletti. Comunque, dopo avervi fatto vedere gli stivaletti, vi faccio vedere un po' le posizioni degli NPC un po' più quelle importanti, ovvero quelli del pass battaglia. Quindi, per esempio, Coccodè, Corvina, Raz e questi qui. Il vero problema, ragazzi, con questa cosa è buildare. Quindi in squad è più facile, in singola è veramente impossibile. In squad è già un po' più facile perché magari ti aiutano i compagni e in un modo o nell'altro ce la fate. Anche perché io adesso sto tornando alla guglia e c'è il boss, c'è di nuovo lei, eh. Quindi dobbiamo stare particolarmente attenti, non sarà per niente facile, purtroppo. No, comunque trolla troppo sto boss, rega, trolla veramente un sacco. Comunque, già qui si inizia a sentire un po' un rumore strano. Si inizia a trasentire un rumore strano. Voi la consegnate qui, non dovete neanche fare niente. Gli andate addosso e vi rilascia. Eccoli qua, stivali al razzo della guglia, mitici. Voi li mettete, ovviamente vi occupano uno spazio. Dovete premere tre volte, tre volte il tasto che usate per saltare. Quindi uno, due, eh. E poi vi fa praticamente jumpare. Però perché non mi sta facendo aprire il deltaplano? Mi dovrebbe far aprire anche il deltaplano, tecnicamente. Allora, vediamo se... No. Mi ho preso anche danno. Sono un po' complicati da usare, eh. Non l'ho ancora capito. Perché praticamente nella spiegazione ti dice semplicemente un salto al momento giusto può fare la differenza. Esegui rapidamente tre salti di fila per lanciarti in aria. Io gli voglio bene, ma sti tre salti l'ho fatti. Perché non mi fa fare questa roba? Eppure nella live dell'altro giorno l'ho anche fatto, eh. Nella live di ieri. Allora, vediamo. Ok, ho saltato tre volte, però... Ah, ecco, ok, 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 ok. Ok, bisogna saltare tre volte e poi beccare il momento giusto per risaltare. E ti dà ovviamente questo slancio. Ma vi assicuro che non è facile per niente. Perché dovete star lì a spammare. Magari con il mouse e tastiera è più facile perché cliccate quel tasto e andate easy. Niente, io tra l'altro volevo usare questi per farvi vedere la posizione degli altri personaggi. Ma mi sa che non sono abbastanza veloce per fare tutto il giro dopo, prima della chiusura della safe. Quindi andiamo per gradi. Andiamo prima da Raz che sta proprio qui vicino. Sta proprio qui. Raz sta a cascina colossale. Cioè praticamente è come se serve tre volte per attivarlo e poi la volta dopo che ricadi devi cliccare una volta e ti parte. Quindi va attivato così. Ok. E poi, tac, ok, sto iniziando a capire, va bene. Però è comunque complicato. Ecco qui Raz, ragazzi. Raz vi dà semplicemente la possibilità di attivare una fenditura. Tra l'altro vi regala anche tre scildini. Ah sì, c'è sta nuova cosa. Gli NPC vi regalano delle cose se gli andate a parlare. Come quando tipo andate a casa di un amico e vi offrono il caffè. Così, vi offrono qualcosa. Perché li siete andati a trovare. Vi dà la possibilità di attivare il rift e di nascondervi in un oggetto. Ormai hanno aggiunto questa cosa e ci si può trasferire in un oggetto. Quindi si campererà ancora meglio. E poi potrete fare, vabbè, altre sfide. Insomma, le classiche. Per esempio qui c'è un'altra torre, ragazzi. Quella a Parco Pacifico che vi dicevo. Ed ecco lì il boss. Eccolo lì, raga. L'avete visto? Eccolo là. Ovviamente non è che stiamo qui a pusharlo. Qua dobbiamo fare altro. Lì c'è Lara Croft, attenzione. Uh, va così. Un pompa, una mitragliatrice primordiale. Regà, ormai mi sembrano tutti pompa. Cioè vi giuro, queste armi viste così a terra mi sembrano tutti pompa. Cioè non so se sono l'unico oppure anche a voi che crea sto problema, ma è un disagio. Per quello io pensavo che queste copie dell'assassina dessero tutti il fucile a pompa epico. Perché li scambio tutti? Eh, non c'è niente da fare, regà. Comunque ecco, Lara Croft di solito sta proprio in questa casetta. Non si muove troppo per fortezza furtiva come magari faceva Predator. Ed è un NPC normale. Voi andate qui, gli andate un attimino a parlare. La potete assoldare. Vi può dire quali sono i forzieri nelle vicinanze. Vi dà 100 di legno così a caso. Potete prendere le bende e poi c'ha altra roba, insomma le classiche sfide. Ora, per gli altri boss devo un attimino ristartare perché ne abbiamo una qui, uno qui e uno qua. Quindi dobbiamo farci un altro bel giretto. Allora, c'è un taglio perfetto perché così possiamo fare un attimino il giretto che dico io. Corvina, che tra l'altro è appena diventata una dei miei NPC preferiti perché non avete idea della roba che vi dà. Si trova proprio qui, in questa casetta, accanto a sabbie sudate. Quindi diciamo in una zona molto safe. Devo dire che questa volta gli NPC, almeno quelli un po' più importanti, l'hanno messi in zone safe. A differenza della scorsa season dove per esempio Menace stava il Colosseo. Lexa stava a covo del cacciatore, l'unico era Mancake che però comunque stava abbastanza al centro della mappa. E sì, qualcun altro che era un po' sparso, però bene o male, tutti i luoghi importanti. Invece guarda qua, Corvina umile, sta qui, tranquilla, si fa gli affari suoi, vedete, no entri, c'è i suoi pupazzetti viola. E dai, ma che era? Che era sta freccia? E qualcuno ha provato a spararmi? Vabbè, comunque. Vi attiva il rift, quindi non è che lo potete comprare, sostanzialmente ve lo attiva, un po' come il razz. Ma lei vi può rivelare le prossime safe. Cioè, prende, noi adesso vediamo questa safe, vi rivela anche quella dopo. E adesso che uscirà quella dopo, vi dirà quella dopo ancora. È una cosa molto figa, secondo me. E poi il resto, ragazzi, sono un po' le solite missioni, eccetera, eccetera. Ok, la safe si chiude bene per fare tutto il giretto degli NPC, quindi dovrebbe bastare questa partita. Ok, ragazzi, invece qui ai soborghi scalcinati potete trovare Tarana. E vi vende le ossa di animali, che ormai lo sapete con le nuove meccaniche non è neanche male. E poi, sostanzialmente, vi dà altre sfide. Quindi lei, diciamo, vi vende giusto le ossa di animali. Che poi, tra l'altro, raga, non so se lo sapete, ma ci sono moltissimi altri NPC molto interessanti. Ora, a parte Coccodè, che sta tipo qui, adesso ve lo faccio vedere. Se andiamo nelle raccolte, guardate un po' chi esce fuori. Dov'è? Dov'è? C'è Jules, raga, c'è Jules. C'è qualcosa di pazzesco. Jules, se lo volete, si trova qui giù. Esattamente in questa struttura qui. Poi, tanti altri, come per esempio Zenith, che si trova qui nelle montagne sopra Gattocryl, praticamente, è uno di quelli che vi puscia e poi diventa fantasma. Infatti, tutti quelli, o meglio, quasi tutti quelli che prendono e vi pusciano, diventano poi fantasma. Ad eccezione di alcuni, come per esempio poi anche l'assassina della Guglia, no? Comunque, detto questo, andiamo da Coccodè. Ah, e poi mancherebbero i Jonesi. Ma, raga, i Jonesi sono veramente tanti. Tra l'altro, mi sa che non tutti sono usciti in questo aggiornamento. Forse molti NPC dei Jonesi verranno aggiunti dopo. Però ci sono, per esempio, c'è quello Slarp che sta a Pantano Palpitante. Che, tra l'altro, vi vende l'arma esotica del Bazooka Slarp. Ci sono altri Jonesi in giro, come quello primitivo, quello che ha subito il naufragio e altre cose. Quindi, insomma, ce ne sono di spunti e di cose interessanti. Speriamo che sia una stagione piena di hype. Ed eccolo lì, ragazzi. Coccodè, la best skin di questo nuovo Pass Battaglia. Lo trovate esattamente qui, quindi, praticamente, vicino foresta frignante. Ma, diciamo, non ha un vero e proprio luogo di interesse vicino. Sta qui, raga. Sta qui e se fa gli affari suoi. Non lo vuole nessuno, non lo vuole. Tra l'altro, lui ogni tanto balla, eh. Ogni tanto balla, fa il ballo del Coccodè, proprio. E lo si può giusto assoldare e prendere qualche missioncina così. Però, vi regala delle parti meccaniche. Che quelle sono sempre interessanti. Allora, vediamo se mi allontano un po' e inizio a ballare. Allora, attenzione. Guardiamolo tutti insieme. Dai che sta per iniziare a ballare. Dai, ci nascondiamo se non ci vede mentre balla. Eccolo, regà. Eccolo, eccolo, eccolo. Lo sapevo, lo sapevo che ballava. Eccolo, è troppo carino. Troppo bello, troppo bello. Quindi, ragazzi, mi raccomando. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa season. Ma, soprattutto, se avete altre domande. Che magari faremo un altro video. Per spiegare altre cose. Ovviamente, lasciate anche un bel mi piace. Per supportare questa nuova season. E tutti i video che arriveranno, ragazzi. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Codice creatore nel negozio oggetti di Fortnite. GGYT, tutto grande, tutto attaccato per supportarmi. Per me è tutto. Noi ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzi.